Buongiorno, ben arrivati! Come state? Come va Marco? Anto, ti sei persa una puntata scoppiettante, qui abbiamo parlato anche di te, settimana scusa. Infatti, guarda, ho appena finito di riascoltarmelo perché non sono riuscita prima e devo dire che però mi sono un po' delenata. In che senso ti sono delenata? Nel senso che io mi rivedo tantissimo nelle parole che sono state dette, no? E una cosa che non mi piace molto sentire, anche se sono consapevole che in parte è veritiera, è la presunzione dei giovani, no? Però io credo che noi giovani, noi della generazione Z, ecco, siamo cresciuti vedendo i nostri genitori vivere in un certo modo, lavorare in un certo modo e avere un rapporto con il lavoro di un certo tipo. E invece noi siamo così in una situazione di profonda incertezza. Io appunto mi sento nell'incertezza e come me vedo tantissimi ragazzi giovani dove proprio la parola giusta è incertezza. Siamo in una situazione dove tanti giovani laureati con competenze, con voglia di fare, con voglia di lavorare, no? Si parlava anche di questo nella scorsa puntata, si trovano però nell'incertezza e dall'altra parte vedo come ci sono tante aziende che cercano di sfruttare fino all'ultimo il giovane senza però dargli poi un riscontro, no? Positivo e lo vedo con tanti miei amici che si impegnano. Sono in un ciclo di stage infinito dove, parlando di diritti del lavoro, tu non hai nessun diritto e stage e questo fatto di non avere diritti si riflette su tutta la tua vita, anche la tua salute mentale, no? Riprendendo tutti i temi di cui abbiamo parlato. Perché una persona di stage non ha nessun diritto, a parte il rimborso di spese perché non è una stipendio, che comunque è una cifra molto bassa, ma sì hai ovviamente un'assicurazione in caso ti fai male, però vivi anche in una situazione in cui succede poche volte, ma all'altra parte dall'oggi al domani ti puoi dire tu per me domani puoi non venire. E come si vive in una situazione così? Come può stare una persona? Quindi da qui io vi dico, non penso che noi giovani siamo presuntuosi, ma oggi pretendiamo comunque di avere più certezze. La grande notizia è che ormai certezze ne hanno in pochi Antonella, non è solo una questione, è vero gli stagisti sono più esposti, ma questo a mio avviso la leggenda che c'è stata narrata dai nostri genitori, che il contratto a tempo indeterminato ti dà, era indeterminato in realtà oggi con le instabilità che ci sono, e poi la contrattualistica generale non dà sicurezze per nessuno. Buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno. Ciao Fernando, buongiorno. Buongiorno. Antonella, è molto interessante quello che tu hai detto, mi veniva da porre una domanda, ma quali sono le certezze che oggi cerca un giovane? Siamo veramente sicuri che un giovane oggi vuole entrare in un'azienda e la sua certezza è il contratto a tempo indeterminato, ovvero i prossimi 20-30 anni nella stessa azienda pur facendo carriera. È questo quello che le nuove generazioni cercano nel lavoro? No, io penso di no, infatti io non dico che ovviamente devi avere una certezza del contratto indeterminato, che poi come diceva Stefano non è più la leggenda di una volta, sappiamo che anche quel contratto indeterminato non hai quella certezza di rimanere per sempre lì, però ovviamente io vedo che i giovani sono in condizioni contrattuali molto più precarie, rispetto a quelle che magari ci sono state raccontate e ci immaginavamo dopo un determinato percorso di studi. Però a parte questo io penso che oggi il giovane non voglia neanche più restare, almeno io personalmente non ho più quell'idea che magari potevano avere i miei genitori di dire ok sono entrato in questa azienda, finché non vado in pensione io sto qui. Perché? Perché io penso che, appunto parlo per me, ma credo di parlare anche per altri giovani, cerchiamo sicuramente un contesto lavorativo che ci permetta di stare bene mentalmente, che ci gratifichi, quindi io se lavoro, io ho provato a cambiare lavoro perché ero in un lavoro, lavoravo vicino casa, ma il lavoro non mi gratificava, quindi io ero comoda a lavorare lì, avrei potuto decidere di rimanere lì ma ho voluto cambiare perché quel lavoro non mi faceva sentire bene, io penso che per noi magari può essere visto un po' folle dai nostri genitori quando uno magari ha più certezze ma si butta nel vuoto, perché? Perché vuole un lavoro più gratificante, però io penso che per noi sia importante al mattino svegliarsi e dire ok io voglio fare una cosa che mi piace, che al mattino mi faccia venire voglia di aprire gli occhi e dire oggi vado a lavorare, ovvio che poi non siamo come la famiglia del mulino bianco, però io penso che questo sia molto importante. Poi magari sono troppo sognatrice ecco e magari col tempo dirò ok piuttosto mi accontento ma mi porto a casa la pagnotta, però per me che sto entrando nel mondo del lavoro questo è fondamentale, trovare un lavoro che mi permetta di stare bene mentalmente, quindi anche l'ambiente che poi trovo al lavoro ma che mi faccio sentire gratificata a fine giornata. Ed ecco un ottimo spunto, era quello da cui forse ci eravamo proprio lasciati la settimana scorsa con la puntata dedicata anche un po' al non mollare, al continuare a inseguire ciò che noi facciamo e ne è nata un'interrogazione naturale su mai giovani, i giovani che tipo di lavoro si aspettano perché questo è molto importante dal punto di vista di chi tutela all'interno delle aziende la loro salute mentale e fisica, la loro sicurezza, trovare i giusti linguaggi, dare le giuste motivazioni è sicuramente quello che può portarli a migliorare il luogo di lavoro, a contribuire a quello che Antonella ci diceva. E' interessante come sono proprio cambiati nelle generazioni, qui abbiamo, credo Francesco è che qua abbiamo un po' tutte le generazioni, no? Eh beh, direi di sì. Quello che... Il partito ai nati 64, la generazione X va da 65 all'80, la Y va dall'80 al 2000, non so, abbiamo oltre il 2000, abbiamo la generazione Z, questo non lo so. Taglia vero che perlomeno riesco ad entrare in Y, dai. E quindi insomma tutte queste generazioni in cui, per chi lavora nell'ambito delle risorse umane, ma chi si occupa di risorse umane forse è molto importante cominciare a considerare nel momento in cui noi li portiamo a bordo in un progetto, in un'azienda quali sono le loro aspirazioni, che cosa stanno scoprendo, cosa stanno cercando quando si affacciano sul mondo del lavoro. Questo era un po' il tema, anche a fronte di un grandissimo cambio. Nell'ultimo, il Covid ha fatto in modo che le persone si facessero questo tipo di domanda e abbiamo visto cambiare lavoro, cercare, abbiamo visto dimissioni, mollare lavori magari sicuri, come dicevamo prima, secondo la vecchia generazione, per lavori che fossero più soddisfacenti. Io conosco in questa chat anche Marco, che se ci sente può intervenire, ingegnere, lavoro sicuro, luogo sicuro, ha rivoluzionato la sua vita, l'ha cambiata in funzione di qualcosa di molto meno certo, ma sicuramente più appagante. Allora, forse anche noi dobbiamo cominciare a gestire la sicurezza in maniera che sia qualcosa di appagante, che dite? Io credo che i valori che diceva Antonella però sono valori che abbiamo anche noi, nel senso che, allora, o siamo tutti giovani dentro, mi viene da dire, perché cercare di trovare un luogo di lavoro che sia appagante, che soddisfi un po' la tua crescita professionale, che ti faccia scoprire cose nuove, sia, penso un po', quello che cercano un po' tutti, trovare dei colleghi con cui lavorare in modo affiatato, creare un contesto che sia di grande soddisfazione personale, no? Quindi, cosa manca? Io credo che sia proprio il mondo del lavoro a questo punto che stia cambiando, più che le generazioni che stanno cambiando. E come dicevi anche tu, la pandemia ci ha dato un po' la scossa su queste logiche. Probabilmente la pandemia ci ha fatto scoprire dei valori che avevamo dentro, ma che magari per tanti anni tacevano. E quindi, oggi, con la grande dimissione, con la richiesta di creare dei posti di lavoro migliori, queste cose magari sono più dibattute. Io ricordo qualche anno fa, quando si favoreggiava di Microsoft, di Google, c'è quei luoghi di lavoro dove tu hai il biliardo, il divano, dove le porte sono sempre aperte, dove l'orario di lavoro lo fai tu, non lo fa l'azienda, no? E allora, forse, è quello su cui dobbiamo andare? Cosa ne pensate? Ma guarda, Francesco, io mi leggo anche su un altro di discorso. Nel senso che l'equazione perfetta, poi alla fine, è quello che ci siamo detti. L'equazione perfetta, alla fine, non è altro che il dover insegnare che deve essere uguale al voler imparare. Però mi unisco alla tua ultima frase. Non sarà che, essendo anche un po' esterofili, tutte queste notizie, lavoriamo tre giorni in Norvegia e siamo felici. È bellissimo, a 5.000 km di distanza abbiamo questa notizia che ci arriva. Reale, non reale, fake. Quindi crea un'aspettativa. Ah, dici, ah, guarda, in Norvegia lavorano tre giorni a settimana, sono dei ganzi. Ma noi viviamo anche di questo nell'ultimo anno, come se dall'altra parte del mondo tutto fosse bello, meraviglioso e stupendo e alza anche tremendamente l'asticella. Quindi colui che entra anche al lavoro attualmente, non lo so, per quello che sento anche di amici e di amiche, si hanno delle aspettative altissime, come se dall'altra parte del mondo fosse tutto meraviglioso e stupendo e noi invece fossimo in una situazione del lavoro tragica. La butto un po' lì come provocazione, anche per sentire un attimino cosa ne pensate un po' voi tutte e tutti a riguardo. Allora, io ho letto recentemente che in Italia un'azienda si è vantata di questo approccio dei quattro giorni e mezzo, che però, insomma, mi è piaciuta anche la critica di un giornalista, ha detto sì, quattro giorni e mezzo, ma il resto dei giorni lavori dieci ore. Quindi, boh, distinguiamo l'arrosto dal fumo. Ora, io qui parlo dal punto di vista di un imprenditore, anche se non sono il massimo esponente. Noi siamo una piccola famiglia di 25 persone. Le aziende hanno bisogno di fare un determinato fatturato, che non è l'interesse dell'imprenditore, ma del collettivo, perché con il fatturato che hai, la retribuzione, il welfare, i benefit e la sede googoliana di cui parlava Francesco. Quindi, la grande sfida è trovare quel giusto equilibrio dove si riesca a fare il miglior business nel rispetto e nell'equilibrio della vita, della salute, della sicurezza delle persone. Io, nei salotti bene degli HR, che tante volte, mi perdoni se c'è qualche HR qui presente, mi sembrano più fashion victim che altro, cioè che mettono sul tavolo delle tematiche che a volte non fanno scopa con la realtà, ci si deve rendere conto che le aziende, comunque, sono aziende private e se non rispettano determinati bilanci, chiudono. A volte sembra che l'azienda abbia un pozzo infinito di risorse e quindi, se non fa quel qualcosa nei confronti i lavoratori, è perché c'è l'imprenditore, il bordo aziendale che è solo cattivone. Questo, purtroppo, è un'abitudine culturale che abbiamo in Italia, dove lo stereotipo di chi fa impresa è quello che la mette in tasca agli altri. Ce ne sono tanti, ma non sono tutti così. Quindi, insomma, bisognerebbe che, nei ragionamenti che facciamo, e qui chiudo, si dia un po' più di equilibrio e non si diventi monotematici. Quindi i lavoratori devono guardare solo i benefit, gli imprenditori solo i fatturati, ma in realtà è tutto un sistema integrato che deve saper coesistere. Ma sono assolutamente d'accordo con questo e poi lascio la parola Ilaria che vedo che voleva fare che lei era un intervento. La domanda vera, appunto, è sempre quella. Quindi cosa facciamo? Vi racconto un po' cosa faccio nel mio piccolo e anche cosa propongo ai miei colleghi dirigenti. Perché quello che dici tu, Stefano, è vero. Spesso e volentieri facciamo delle cose giusto per darci un po' di visibilità e ci dimentichiamo delle cose basiche. È un po' come dico sempre, come se la sostenibilità in azienda la facessimo con le borracce di illuminio. E allora magari il welfare diventa delle cose molto appariscenti e poco sostanziali. E credo che alla fine le persone abbiano bisogno di sentirsi valorizzate, di sentirsi protette, di sentirsi crescere all'interno di un'azienda. Io ai miei dico sempre, voi dovete lavorare, chiaramente perché se qui avete bisogno di uno stipendio fino a mese, lo stipendio vi serve soprattutto per i vostri obiettivi, per i vostri desideri di vita e voi dovete cercare di stare in questa azienda con l'obiettivo di crescere. Quindi ad esempio io continuo a domandare ai miei ma scusami ma quel corso di Confindustria ci vai o non ci vai? Perché è chiaro che è sempre un po' la dinamica del non ho tempo. Eh sì, però se non ti formi non produci neanche bene. E quindi l'importante a mio avviso è sempre quello di dire tu devi crescere come persona, come lavoratore, come manager. Se cresci sei contento, se sei contento lavori bene. Se lavori bene l'azienda è contenta. Quindi portare al centro il collega, il dipendente, il lavoratore più che i bisogni dell'azienda. I bisogni dell'azienda arrivano di conseguenza. Se un lavoratore è contento non va a cercare un lavoro dall'altra parte e sicuramente quando va a cercare lavoro dall'altra parte non lo va a cercare per i cento anni in più. Lo va a cercare perché cerca un ambiente migliore, un capo più responsabile che quando c'è un problema lo aiuti, lo supporti, non gli faccio lo scaricabarile, gli faccio un po' da parafulmine. Allora questo secondo me credo che sia quello che noi dobbiamo costruire all'interno di un'organizzazione, di un collega. Vai, Laria. Io credo che, come è stato detto, il mondo del lavoro sta cambiando. La pandemia sicuramente ha scaturito all'interno delle persone l'essere umano come persona. Se prima si sentivano, secondo il mio punto di vista, in dovere, di dovere rimanere all'interno di una realtà indipendentemente che l'ambiente fosse armonioso o meno, ha fatto scoprire all'interno delle persone appunto i valori. C'è da dire, però parlo per la mia umile esperienza, che le aziende dove c'è al centro la persona sono sempre aziende strutturate di un certo livello che hanno un'apertura mentale. In Italia, al mio punto di vista, dove l'impresa è soprattutto medio-piccola, appartenente a dei padroni, così concedetemi il termine, che sono ancora molto ancorate ad un concetto vecchio di produttività, dove produrre, produrre, minimizzare i costi, eccetera, non è il centro, la persona non è il centro dell'attività. E pensano che alla fine dell'anno dare la cena e il regalo va bene così. Quando invece, purtroppo, con questa pandemia si è creata una rottura e tante persone hanno detto, ma io per che cosa lo faccio realmente? E quindi questo stereotipo si è andato un po' sgretolando, secondo il mio punto di vista. Cioè, l'ho visto in me, ma in tantissime altre persone, questo discorso. Non c'è la cultura, l'azienda medio-piccola che ha il padrone non vede al centro la persona. Io non so se per voi è la stessa cosa, ma... Ilaria, ti posso fare una domanda? Potrebbe esserci che in questa categoria c'è chi vorrebbe farlo, ma in questo momento ha dei problemi proprio di conto corrente? Allora... Se te sei madre e hai difficoltà economiche, non compri il giocattolo al figlio, è perché non vuoi bene al figlio o perché oggettivamente non lo puoi comprare? In questo momento, oggettivamente, se mai, non lo posso comprare. Io ti parlo, io ho parlato principalmente per la mia esperienza, dove so benissimo che sono aziende che in questo momento stanno lavorando di un certo tipo. E ti posso assicurare che la cultura della persona non ce l'hanno, è tanto è vero che dopo la pandemia hanno avuto, a parte che avevano già un turnover molto alto di persone, e dopo la pandemia si è enormemente accelerato questa cosa qua. E stiamo parlando di aziende che in questo momento, vuoi per il settore, vuoi per... hanno lavoro. Ma io mi sento di dire, ad esempio, che probabilmente non è proprio tutto così dappertutto, nel senso che ci sono aziende che anche hanno dei titolari con dei grandi valori all'interno. No, no, l'ho detto, non tutte saranno... No, 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 esatto. Ilaria, io volevo anzi sostenere il tuo punto di vista, nel senso che ci sono, secondo me, quando si fanno queste cose, quando si pone la persona al centro, è perché il titolare di un'azienda o il capo di una divisione, insomma il CEU, quello che è, ha dei valori all'interno, oppure è cresciuto in un contesto con questi valori. In conseguenza per lui è normale creare dei contesti in cui le persone possono andare in meglio. Perché in fin di conti, quando noi parliamo di crescita e di dare qualcosa ai giovani, è appunto portarli, nel caso di un'azienda, a renderli persone o manager o lavoratori migliori, no? Quindi prendere di ciascuno le proprie competenze e farle crescere. Quindi non cercare di fare dei manager copi in colla, ma cercare di capire di ciascuno che competenze ha e svilupparle in modo da rendere, diciamo, appunto dei lavoratori di manager migliori. Se questo accade, è chiaramente l'azienda diventa più performante. Ma è chiaro che il titolare, questa competenza, questa esperienza, non ce l'hai? Allora, o trovi qualcuno che ti guida, te la fa, o diversamente, se non d'accordo con te, è difficile che da solo una mattina si svegli e accada tutto questo, no? Perché tipicamente in una piccola, media impresa, il titolare è l'inventore, è quello che ha inventato il business, il prodotto, quant'altro. E quindi tipicamente è magari appunto un commerciale, un, sì, un commerciale, o anziché un inventore, un tecnico, no? E quindi questo invece è decisamente diverso, in un'azienda strutturata, dove invece il tecnico fa il tecnico, il commerciale fa il commerciale, e il CEO ti dicono, è un'estrazione molto più ampia. Ecco, su questo cosa ne pensate? Marco, cosa ne pensi tu, che lavori in un contesto molto diverso da quello che hai in impresa? Marco? A quale Marco? Quale Marco stai giocando? Marco Chelo. Marco Chelo. Marco è... Eccomi, eccomi, no? Ero in un momento di ascensore con il segnale che è sceso, ho sentito solo cosa ne pensi. Ma io sono d'accordo, l'ho detto, l'equazione perfetta alla fine è un fatto di insegnare e voler imparare. Vi sento malissimo, non so se è lo stesso anche per altri. Ragazzi, bentornati, eh? Se avete perso il segnale siamo qua, in realtà credo che Marco fosse in ascensore. Sì, io vi sento bene. Sentivo un piccolo pianto di un cucciolo di uomo da Marco, ma mi sento molto bene. No, io volevo dire che effettivamente, come dice Francesco, io penso che, ecco, un'altra cosa che noi cerchiamo è un posto di lavoro che ti faccia crescere. Io almeno personalmente, perché comunque ci sono delle aziende dove vedi che anche i colleghi sono un po' resti, come se ci fosse un segreto, no? Che io da lavoratore con esperienza so, ma che non voglio neanche passare a te che sei più giovane, quasi per paura, non so che tu mi possa rubare il lavoro. A volte io, anche appunto, sentendo tanti amici giovani, c'è questa sensazione, no? Che anche molti colleghi siano proprio gelosi della loro competenza. Invece, ecco, se io dovessi descrivere il mio posto di lavoro ideale, è questo, no? Un posto di lavoro dove c'è sharing delle competenze sia da parte del manager che si impegna proprio a pensare un percorso formativo per il suo team. Quindi, farti fare dei corsi laddove possibile, perché comunque nel corso del tempo anche una persona che ha studiato tanto, che magari ha fatto master, ha bisogno nel tempo poi di aggiornarsi, no? Soprattutto per quanto, per quello che penso io, per il mondo della comunicazione, ci sono sempre nuove tendenze, ma, e poi deve esserci sharing anche tra i colleghi, no? Ecco, un'altra cosa che io cerco, colleghi che, dove ci sia uno scambio, sai, proprio anche informale, ho visto questa cosa interessante, se la giro dall'alto e dal basso, ecco, perché io penso che noi giovani dobbiamo avere voglia di imparare, ma dobbiamo anche essere in grado, ecco, di dare il nostro, e dobbiamo avere voglia di portare il nostro, senza avere paura, perché io penso che anche noi possiamo portare tanta freschezza, tante idee innovative, e a volte su questo Chiara, forse, nella scorsa puntata diceva che siamo un po' sfiduciati, ecco, che noi giovani siamo un po' sfiduciati, io penso che invece non dobbiamo avere paura di proporre, no, anche cose noi in azienda. Antonella, concordo tantissimo su quello che dici, sai che a volte mi hai fatto pensare a questa cosa, che il grande errore che forse facciamo nelle aziende è che quando si prevede l'inserimento di un giovane ci deve essere naturalmente una progettualità, questo che poi a livello proprio formale si identifica nell'identificazione di un tutor, solo se il tutor è il povero disgraziato che poi ha da rispettare dei suoi obiettivi di fine mese, il rischio è che di fronte alla rincorsa degli obiettivi e la scelta di condividere e far crescere la persona, la seconda parte viene meno, è lì il problema della progettualità, cioè al momento in cui si identifica un tutor dobbiamo sapere che quella persona nel suo monte di tempo che è a disposizione deve dedicarsi alla crescita della persona, questo tante volte non c'è e il tutor diventa il nome di uno preso a caso nella divisione, nella business unit e messo lì perché deve essere compilato un modulo e questo poi diventa un problema per il destinatario della formazione che è il giovane. assolutamente Stefano e volevo dare il benvenuto a Marta Basso è con noi in aula, l'ho invitata a salutarci, sicuramente è una delle voci più influenti e giovanissima di questo periodo per chi non lo conosce Marta è stata anche Marta correggimi se sbaglio ma ha anche insegnita delle top voice di Linkedin co-founder di Generation Warrior quindi direi una di quelle voci autorevoli che ci possono raccontare come mai come le nuove generazioni rincorrono anche un po' la salute e la sicurezza all'interno dell'azienda Marta se vuoi intervenire ti ascoltiamo molto volentieri e ti diamo il benvenuto e ricordo a tutti voi che potete invitare come tutti i venerdì mattina attraverso il ping di Clubhouse altri ospiti altre persone i nostri colleghi del mondo HSE ciao Marta benvenuta ciao Veronica ciao a tutti io non voglio ti ringrazio per l'invito non voglio prendere il posto di nessuno volevo solo lanciarvi una riflessione sulla meta sicurezza diciamo così nel senso che quello che io sto notando da persona chiaramente non del settore ma da analista un po' di quello che accade tra le generazioni se ne è parlato tanto ma secondo me se ne è parlato cioè se ne parla sempre per speculazione ma se ne parla poi poco nel concreto in ok cosa dobbiamo fare come possiamo muoverci riguarda la sicurezza chiamiamola emotiva che il cui concetto secondo me è un po' cambiato fino a qualche diciamo almeno un decennio fa poi non non voglio dare date precise perché poi qua ci si sbaglia sempre quindi andiamo un po' a spanne sicuramente c'era e lo sappiamo tutti in maniera molto più diffusa diffuso il desiderio di avere il posto fisso quello era un po' insomma l'obiettivo della vita di molte persone perché perché socialmente avere un lavoro fisso permetteva alcune cose mettere su famiglia avere una casa eccetera 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 con il cambiamento del mercato del lavoro con le cose che sono successe e purtroppo stanno ancora succedendo chiaramente queste certezze vanno ancora più a sgretolarsi quello che io sto notando è una grande richiesta da parte delle soprattutto delle generazioni più giovani e da categorie per esempio come quella delle donne che finalmente si sente un po' anche in diritto se voglio essere precisa di fare determinate richieste di una cura da parte dell'azienda dell'ambiente di lavoro in cui sono questo chiaramente implica un ambiente sano non pericoloso da un punto di vista proprio di struttura sono molto critici per esempio anche i ragazzi giovanissimi sull'edilizia scolastica io ne ho intervistati un paio mi ha molto impressionato il livello di preparazione su questo quindi sono polemiche reali ma anche come che sia un ambiente sicuro da un punto di vista emotivo e di espressione del sé io non vedo tante aziende questo purtroppo tocca tutto cioè tocca diceva qualcuno i tutorati i tutoraggi aziendali tocca il modo in cui l'azienda comunica tocca gli orari tocca i benefit che l'azienda dà sicuramente c'è qualcuno che lavora ancora meramente per i soldi che poi nelle aziende italiane non è che girino così tanto rispetto ad altri paesi anche europei quindi di sicuro i miei coetanei e i ragazzi più giovani hanno forse ben altri valori perché la società in qualche modo glielo impone ma cercano sicuramente degli ambienti un pochino più sicuri dove poter esprimere la propria emotività dove poter dire sono in difficoltà e dove poter sbagliare questo spazio si chiama Be Safe quindi anche se non è il topic specifico credo che sia importante anche perché sono stati fatti tanti studi riguardo lo spazio di lavoro che sia work from home o sia in ufficio su come questo diciamo influenza poi anche la performance della persona e quindi anche il suo benessere emotivo e mentale questo secondo me sta già tantissimo definendo le scelte lavorative delle persone io stessa sono scappata da un paio di posti di lavoro perché c'era qualcosa che non mi tornava da questo punto di vista e vedo tante persone cambiare per evitare burnout e per trovare posti più come posso dire un po' più sicuri ecco mi viene questa parola da dire per cui diciamo questo scollamento tra il mondo del lavoro e i ragazzi ma in generale le nuove generazioni e un mondo del lavoro che adesso ha subito tanti cambiamenti negli ultimi anni però sono stati cambiamenti indotti io non voglio dire che bello la guerra che bello la pandemia mi chiedo però cosa sarebbe successo dove saremmo ancora oggi se non fosse successo nulla forse ancora ai livelli del 2019 e l'argomento generazionale io vi cito così per ridercela tra di noi una azienda che aveva proposto di investire agli inizi in Generation Warriors quando ancora non avevamo chiaro neanche il business model ma perché perché conosceva noi e all'inizio si punta sempre sui founder quando non c'è una struttura e ci aveva detto guardate io in realtà sono abbastanza convinto di un player finanziario mondo finanza e sono abbastanza convinto di investire ma c'è una cosa perché l'argomento generazionale oggi ed era il 2019 oggi non è attuale magari lo sarà tra un paio d'anni ecco quando si parlava di millennial da ormai una decina d'anni ora si parla di Gen Z tra 5 anni si parlerà di generazione alfa e così via quindi diciamo che la miopia che c'è che c'è attorno mi mi impressiona mi ha sempre impressionato molto quindi credo che queste conversazioni siano assolutamente necessarie e bisogna farle senza come ti posso dire senza prosciutto sugli occhi perché altrimenti si scolta un ventenne e dice ah vabbè la solita supercazzola capito invece non è così cioè non è così che concretamente stanno avanzando delle domande chiedo scusa a tutti gli altri sul parco ti ringraziamo che sei intervenuta perché l'obiettivo di Be Safe è in realtà proprio questo Be Safe nasce te lo racconto giusto anche per raccontarlo agli altri che magari non lo sanno nasce nell'intento di raccontare la sicurezza nel suo senso più profondo nel senso di sicurezza come dicevi tu emotiva sicurezza dal punto di vista non solo di incolumità fisica o di rispetto della norma ma del vero senso di stare sereni tranquilli senza preoccupazioni come è l'origine della parola sicurezza e a noi che abbiamo questo compito è un po' questa missione di occuparci nelle aziende di fare stare al sicuro le persone è assolutamente importante avere la capacità di ascoltare il punto di vista degli altri di aprirci al dialogo al confronto proprio per fare quello che dicevi tu per evitare la miopia di rimanere solo esclusivamente con le nostre convenzioni io sono ti seguo da un sacco di tempo per cui sono molto contenta che tu sia qui e mi ha rapito il tuo stop whining mi piacerebbe non so se gli altri lo conoscono ma se hai ancora Monica sto informandomi sia per stop whining che per il mio podcast di salute mentale non passa nada di fare delle magliette senza senza avere il magazzino tipo in drop shipping o qualcosa del genere quindi quando le farò te ne manderò una guarda sarò assolutamente contenta di condividerla anche con tutti i nostri però ti chiedevo guarda se hai voglia un minuto di raccontare stop whining da dove nasce e quanto potente è una cosa così semplice e quanto può essere incisiva hai voglia di raccontarlo? ma guarda sarò molto molto breve in realtà nasce curiosamente da curiosamente poco curiosamente da uno di quei momenti in cui stai facendo dell'altro perché mi stavo struccando in bagno quindi non stavo pensando a nulla di filosofico anche se noi donne le donne in ascolto sanno quanto è un po' mistico il momento soprattutto quando ti devi mettere il mascara che devi essere super concentrata ma no mi stavo struccando era sera ero tornata da una festa da un festival in un parco a Vicenza con i miei amici così ma nel giro di un mese sarei partita un po' meno di un mese due settimane sarei partita per andare a vivere a Londra a studiare non avevo una casa a Londra e spoiler non ce l'ho mai avuta perché sono rimasta a vivere otto mesi in un ostello era un'Inghilterra un po' diversa da quella di adesso era molto forte la sterlina e non sapevo cioè era tutto nuovo non sapevo cosa avrei fatto cioè mi si stavano distruggendo le certezze quindi ho avuto un momento così di illuminazione in cui mi sono detta mentre mi struccavo ci sono solo due ho avuto un po' l'epifania ci sono solo due strade una è che continui a lamentarti internamente di quello che non solo stai lasciando ma del fatto che non sai che cosa c'è davanti oppure che decidi che questa in qualche modo è stata la tua scelta perché già io avevo scelto di andare e quindi cerchi di trovare le cose positive in un momento molto negativo tra l'altro erano i mesi successivamente degli attacchi a Parigi quelli insomma del Bataclan che abbiamo seguito tutti con grande apprezzione il clima a Londra vi assicuro che non era per niente carino io ho avuto nel mio ostello è arrivato un tizio chiaramente cioè come si dice per fare una butad è arrivato un tizio una volta a minacciare mostrando un coltello quindi insomma non erano dei tempi insomma molto carini quindi oltretutto io avevo vissuto tra sarei andata a vivere a San Francisco e a Londra c'era la Brexit a San Francisco stava arrivando Trump quindi alla fine sono tornati in Italia facendo la storia molto breve ma però Stop Whining nasce da questo poi mi sono accorta man mano che si poteva applicare le cose più sceme tipo essere in coda al supermercato o essere in coda in macchina la classica frase non sei bloccato nel traffico il traffico sei tu che è verissima e quello che io cerco sempre di lasciare alle persone quando mi fanno questa domanda è quando tu sui social adesso noi non frequentiamo tanto Facebook no però conosciamo qualcuno che lo fa quando noi apriamo Facebook vi sfido a trovare nei primi 20 post di Facebook a non trovare qualcuno che si lamenta per qualcosa solitamente o la politica o il tempo o appunto la mobilità cittadina urbana quindi l'utilità di avere qualcuno che comunica una cosa del genere esattamente qual è essere compiaciuto dagli altri non lo so credo che l'ha compatito sulla te non compiaciuto ma già il 90% della gente che ti legge dice vabbè questo ha usato il suo tempo per condividere cosa quindi sempre meglio direzionare secondo me le proprie energie su qualcosa di più utile insomma è anche quando siamo bloccati nel traffico si possono fare tante cose magari non usare il telefono però no diciamo in una stanza di sicurezza sicuramente non usare il telefono però vedi a proposito di sicurezza io vedo ancora tanta gente questo è così un off topic che in macchina usa il telefono con le mani cioè nel senso chiama tenendo il telefono in mano e dico ma c'è c'è il viva voce ci sono i bluetooth ci sono tutte le cuffie no tu ancora ed è oggettivamente una cosa scomoda e quello mi fa molta paura però non so le abitudini poi sono dure a morire e c'è veramente gente che pur di non perderla stiene il telefono mentre parla al volante è una cosa che mi fa sempre molta paura quando la vedo in per strada figurati a noi quando dobbiamo entrare in un'azienda a cambiare certe abitudini quanta paura ci può fare vedere certi comportamenti bene ne approfitto un attimo io per fare una domanda a Marta visto la sua presenza ciao Marta buongiorno sono Marco ciao senti da persona attenta a quale sei nelle dinamiche ti faccio una domanda al di là degli ultimi tristi eventi che stiamo vivendo nell'ultimo mese negli ultimi due anni hai una sensazione che socialmente si stia andando verso un egoismo molto delle persone la butto lì è una provocazione vita mia morso tua quindi la gente è meno attenta fondamentalmente a quello che la circonda ed è più egoista per via di tutto quello che ha vissuto negli ultimi anni è una dinamica a un tuo punto di pensiero che mi interessa perché secondo me si riflette poi inevitabilmente anche sul mondo del lavoro e quindi sui giovani inevitabilmente io credo che ci siano sicuramente state delle necessità molto evidenti di ognuno deve pensare alla propria sopravvivenza metti la mascherina non uscire non andare in certi luoghi non stai distante quindi diciamo che siamo stati un po' costretti all'individualismo sicuramente tutto questo video schermo cioè poi voi probabilmente lo sapete meglio di me perché studiate gli strumenti ma poi chi parla tramite un video in realtà il cervello non percepisce l'immagine della persona come se fosse una vera persona e continua a cercare dove la persona nonostante ce l'abbia davanti perché non riesce a dargli una dimensione fisica nello spazio e questo cioè è molto alienante non c'è dubbio devo dire però che io sono da una parte perché li osservo tanto su tiktok soprattutto ma poi anche in altri in altri canali e tramite il podcast sulla salute mentale che è un po' più per i millennial più che per i gen z in realtà c'è una grande come posso dire un grande come together no? ritrovarsi su certi valori che ripeto come dicevo prima per le altre generazioni magari non sono stati così rilevanti per la loro carriera no? e la loro vita oggi abbiamo fatto per esempio una puntata sul burnout ha fatta la nostra Alessandra Lupinacci che è una formatrice quindi una che sicuramente ne sa più di noi da un punto di vista di di ragazzi la puntata la puntata sul burnout è stata una delle puntate più ascoltate ed è stata una puntata molto pericolosa perché parlare di sintomi tu ascolti un podcast magari per pensare a qualcos'altro invece ti rendi conto che ti riconosce e dici ops forse sto male non è esattamente il massimo e siamo state sommerse comparabilmente alle altre puntate di messaggi di gente che ha condiviso in maniera cioè buttando proprio il cuore sul tavolo dicendo questo sono io problematiche nel lavoro problematiche soprattutto nel lavoro ma anche molto pesanti cioè mi chiudo tutti i giorni al lavoro in bagno a piangere non riesco a guardare in faccia al mio collega cioè mi vengono gli attacchi di panico cioè delle cose veramente pesanti io parlo di salute mentale ma potrei parlare di altri altri temi e quindi ci sono dei macro temi su cui in qualche modo a livello generazionale si comincia a convergere questo purtroppo da un lato sicuramente aiuta a sentirsi meno da soli io vedo su certi temi molta più condivisione soprattutto tramite i social e quindi meno individualismo e quindi forse più valore dall'altra questo essere molto concentrati sul nostro benessere su quello che è meglio per noi e di conseguenza migliorando noi miglioriamo anche il nostro rapporto con gli altri che è un processo assolutamente giusto è un po' in viso mi rendo conto dall'esterno per un motivo molto semplice che tra le righe hai riportato anche tu questa tipologia di ragionamento ti porta inevitabilmente a dire questo tornando a quello che dicevo io se io sto meglio per esempio caso di tantissime tantissime persone nel mondo dell'IT lavoro da remoto oppure caso di tantissime ovviamente di tantissime mamme che dovrebbero però poterlo scegliere e non essere obbligate o caso di tantissimi creativi digitali io ne vedo tanti per il mio lavoro videomaker copy social media manager e quant'altro che il lavoro fisso in un'azienda dipendente non lo vogliono guadagnano di più non è detto probabilmente pagano anche più tasse però la libertà di poter dire io decido per me è una cosa che questa generazione forse come risposta agli eventi storici e diciamo a una storia di flessibilità insomma un mondo del lavoro per come si stava sviluppando negli ultimi vent'anni stanno rispondendo io ho lavorato nel 2017 un annetto inadecco fino al 2018 circa e il problema numero uno inadecco all'epoca che immagino sia lo stesso anche adesso era come gestiamo la gig economy cioè il fatto di avere tantissimi freelance che continuano e continuano e continuano ad aumentare quindi sì sicuramente c'è questa componente ma non mi sento di dire che è una riaffermazione dell'io che forse potrebbe portarci sul lungo periodo almeno questo è quello che io vedo nella gen z molto più che nei millennial ha una certa unione e comunanza di valori di cui noi forse millennial siamo un po' se vuoi il passaggio ecco siamo un po' la generazione di mezzo sotto tanti aspetti mentre i gen z li vedo già molto più organizzati non è un caso il movimento di Greta Thunberg ad esempio questo è un po' quello che io posso dirti da osservatrice ma non ho dati alla mano a parte quelli che cito chiaramente tipo quelli dei freelance che però sono sotto gli occhi di tutti per supportare quello che ti sto raccontando da un punto di vista scientifico no grazie grazie Marta grazie è un concetto che ritrovo però faccio un piccolo però siamo stati tutti millennials anche io sono stato pre-millennial però mi sono avvicinato al mondo del lavoro da 18 anni te l'ho posta questa domanda perché quello che noto ora anche ascoltando e sentendo è una società sicuramente più malata non è che prima non ci fossero i problemi c'erano sicuramente forse probabilmente questo senso o meno di collettività visto in una cultura che poi fondamentalmente è quella che cerchiamo di comunicare tu hai fatto giustamente ad esempio della mascherina e compagnia dicendo uno dei primi grossi problemi all'inizio della pandemia giusto per fare un Marco ti ricorda che sono le 9.02 hai ragionissima però oggi con Marta ne approfittiamo dai 5 minuti ce lo possiamo infatti l'idea è ce lo possiamo esatto stiamo stati rapiti da Marta siamo la sua presenza sicuramente so che anche altri forse volevano dire qualcosa però niente la saluta ringrazio e lascia gli altri no aspetta Marco andiamo pure oltre e cerchiamo di condividere tutti gli ultimi minuti di questa room vai finisci il tuo Marco che malata è la parola giusta siamo tutti con un trauma collettivo ne hanno scritto tanti psicologi e psichiatri per la pandemia figurarci con la storia della guerra non so quando ci riprenderemo purtroppo Marco ti abbiamo perso Marco eccomi ecco ti stavi chiudendo stavi chiudendo il pensiero credo si chiudo molto semplicemente e poi mi leggo comunque a quello che appena detto Marta uno dei grossi problemi lei giustamente dice chissà quando ci riprenderemo è da essere genitori quindi padre o madre puoi ben immaginare quello che può essere nell'ottica futura da qui a perché sostanzialmente una società malata genera una serie di problematiche di cui forse ne avremo evidenza tra qualche anno e questo è un qualche cosa su cui tra qualche anno noi dovremo fare i conti nel mondo del lavoro stesso noi e le nuove generazioni so che sono entrati in room anche Michele anche Laura anche Alessandro li salutiamo dico a Marta semplicemente e velocissimamente che noi abbiamo l'abitudine di trovarci tutti venerdì mattina otto e un quarto room be safe i temi vengono spesso anticipati fatti girare su LinkedIn e di solito chiudiamo alle nove però siamo proprio stati contenti di poterti ascoltare quindi abbiamo anche un po' sforato contenti di farlo credo e ti invitiamo ufficialmente io e Francesco che è il mio alter ego è il mio aiuto in questa in questa room a partecipare anche alle prossime se avrai piacere di occasioni con noi ci sono sempre Antonella Marco Stefano insomma siamo un po' tutti della famiglia professionale che si occupa di salute e sicurezza e in un senso molto più ampio ragazzi se qualcuno vuole approfittare e salutare e fare se qualcuno aveva delle domande so che Alessandro aveva la mano alzata sapete che siamo qui per ascoltare un po' tutti buongiorno ragazzi buongiorno Veronica mi dispiace posso intervenire? sì sì certo ciao giusto per a beneficio di Marta il nome così almeno lo sa anche lei Fernando buongiorno Fernando buongiorno è piacere di conoscervi oggi vi ho ascoltato purtroppo malissimo perché sono in una zona in cui non ho un un gran segnale quindi vi ho ascoltato a Senghiozzo sarei intervenuto volentieri l'argomento è estremamente interessante io poi ho due figli universitari uno di 22 l'altro di 21 anni quindi avrei portato volentieri il mio contributo spero e mi auguro di poterlo fare in qualche altra prossima occasione ciao Fernando grazie Michele forse volevi intervenire tu o Alessandro non ho capito io un saluto veloce complimenti io qualche volta vado con non ti sentiamo Michele ci spiace se torni eccoti eccoti dicevi dicevo più che una società malata credo che siamo una società diversa per la quale bisogna provare forse trovare nuovi strumenti rispetto a quelli di una volta dove eravamo ovviamente comunità molto più piccole dove anche il controllo sociale era molto più più facile detto questo insomma sicuramente interessante quello che è stato detto oggi quindi complimenti ancora però ecco non la vedrei solo negativa la nostra società come direbbe la vedrei diversa sicuramente poi essendo diversa dobbiamo trovare gli strumenti migliori per poterla affrontare come ci insegna chi viene dalla PNL dalla neurosemantica sostituiamo la parola diciamo che siamo una società dei tempi sfidanti che ne dici Michele tra diversa sicuramente sicuramente mio amico Paolo Zambian che non è qui ma fa un bellissima metafora che che magari che riprendo dice quando sono in bicicletta e trovo una salita non cambio la salita cambio il rapporto della bicicletta per affrontarle wow grazie grazie Michi grazie per questa visione delle salite cambiamo il rapporto con cui affrontarle direi che su queste parole ci diamo l'appuntamento ormai abbiamo sforato quindi io direi che se siete d'accordo salutiamo Marta saluto tutti voi augurandovi una buonissima settimana e dandoci l'appuntamento sempre su Be Safe venerdì mattina 8.15 avete tra i link la possibilità di andare a scoprire chi è Marta qual è il movimento digitale che ha creato insomma un po' tutta la sua storia e la ringraziamo per aver avuto questa mattina da dedicare a noi le chiediamo ufficialmente di restare di tornare quando a piacere e ricordo a tutti voi che questa puntata è registrata quindi potete anche riascoltarla è disponibile sulla pagina link di Be Safe è disponibile grazie a Stefano anche sul nostro sul portale di Rock and Safe e quindi a tutti quelli che l'hanno perduta se volete anche girare il link per farla riascoltare e invitarli nelle prossime puntate trovate tutti i collegamenti in rete io vi saluto vi auguro appunto una buonissima settimana e vi aspetto qui settimana prossima venerdì mattina 8.15 room Be Safe ciao a tutti buona settimana ciao ciao a tutti ciao grazie complimenti ciao ciao ragazzi salutaci la pedia montana ciao ciao a tutti grazie grazie a tutti grazie a Marta grazie a voi tutti a voi tutti saluto con un pezzo se lo ascoltate simple minds someone somewhere grande pezzo ciao buon weekend grazie a tutti